Sì, la segnalazione è ben nota. Così ci accoglie l'assessore Balbi a cui abbiamo direttamente portato le segnalazioni dei residenti di 7K, ostaggi dal 2005 di una convivenza forzata con un rudere di proprietà comunale, lasciato in completo stato di abbandono. Il motivo? Sembrano dovuti alla mancanza di finanziamenti, ma improvvisamente pare arrivare un'importante novità. Un finanziamento che c'era stato negli anni passati, ereditavamo dalla scorsa amministrazione, non si è più concretizzato, ma l'amministrazione proprio quest'anno ha individuato una nuova fonte di finanziamento certa e già prevista, proprio nei bandi del PORFES regionale, quindi con finanziamenti che sono proprio dedicati all'edilizia abitativa. Quindi buone notizie per i residenti a questo punto? Direi di sì. La reazione dei residenti è invece tiepida. Hanno troppe volte ricevuto rassicurazioni ufficiali per un rapido intervento di sistemazione. L'ultima risale è il 2014. Quindi sono passati tre anni. Noi non abbiamo ancora ricevuto niente, nulla. Non sappiamo qual è il futuro di questo bellissimo manufatto. È un finanziamento che è previsto in diversi step. Una prima parte si realizzerà nel 2018. Vedremo se inserirlo già in questa prima tranche. Quello che possiamo fare nell'immediato è fare la nostra parte per mantenerlo in ordine ed eventualmente aiutare anche appunto il maggior decoro. Maggior decoro, già. Ma prima ancora del decoro sembra più urgente la messa in sicurezza. Resta il fatto che è senza manutenzione da una ventina d'anni. Sì. E resta il fatto che attualmente è diventata non pericolosa, super pericolosa. Perché abbiamo qui dei bambini che giocano in questo cortile. E io vi ho chiamato anche perché prima che ci scappi il morto per cortesia, signor sindaco, prima che ci scappi il morto. Faremo nuovamente le verifiche perché giustamente bisogna essere sicuri. Se sarà così, se emergerà un problema, un qualsiasi dispositivo di sicurezza sicuramente verrà previsto. Noi di Rete Veneta resteremo al fianco di questi cittadini. Li accompagneremo prossimamente ad incontrare l'assessore per consegnarle l'ennesimo esposto. I cittadini da me vengono spesso e non sono mai mandati via per cui ben volentieri posso spiegare. Sono sempre disponibile. I cittadini da me vengono spesso e non sono mai vengono spesso e non sono mai vengono spesso e non sono mai vengono spesso.